Abbiamo però 900 milioni di ulteriori progetti già in stato avanzato che se vi avanzassero un po' di soldi e se il nostro patto per il Sud fosse un po' più simile a quello del passato, probabilmente potremmo realizzare. È il mio dovere dirvelo, anche se comprendo che la situazione della finanza pubblica non consente negli ultimi anni a nessun governo di stanziare nuove somme, se non in piccola parte, per le necessità di questa provincia.